Il punto della situazione sull'RSU? La differenziata si è stata attorno al 60% di medio anno, consentendo quindi alla Regione Puglia di poter concedere anche quest'anno quasi il minimo di tributo speciale ecotassa per i rifiuti che continueranno ad andare in discarica perché non compatibili con frazioni da avviare al riciclo. Quindi una tassa che rimane stabile, che nel 2015 è già diminuita al 17% con un tributo che per l'ecotassa alla Regione Puglia è quasi minimo per andare incontro alle esigenze di detassazione da parte dei cittadini ma soprattutto per poter mantenere livelli e standard adeguati. Oltre alle cifre, com'è il Paese? In realtà c'è ancora una fase di stabilizzazione, è migliorato rispetto alla parte iniziale ma è vero anche che sono all'ordine del giorno situazioni che purtroppo riportano al degrado e alla inciviltà. Vi è stata attività in questo senso perché qui le questioni di servizio di raccolta non c'entrano più niente, si tratta di un problema culturale, di un problema di civiltà e anche perché no di un problema di repressione per quelli che sono veri e propri reati perché talvolta soprattutto in periferia si assistono a scene per niente edificanti. Quindi anche in questo senso l'amministrazione è stata attiva, abbiamo fatto attività di monitoraggio con micro telecamere, attività terminata con successo e con l'individuazione di numerosi soggetti che si sono resi autori di questi gesti, attività che anche in questo momento sta continuando perché non intendiamo arretrare di un passo, seppur nel silenzio. Credo che le importanti e gravi vicende che hanno caratterizzato l'avvenire SRL che operava qui a Massafra vorrei ancora una volta ricordare a seguito di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale confermata dal Consiglio di Stato che le aveva dichiarati anni fa a giudicatari della gara, abbiano poi portato quindi a un'anticipazione consensuale dei termini di scadenza di quel contratto che l'amministrazione ha direttamente concordato con gli organi prefettizi che hanno guidato tutta la vicenda che ha riguardato l'interdittiva antimafia dell'azienda Avvenire e che oggi quindi a seguito di gara ha portato poi all'individuazione di un nuovo soggetto gestore. L'avvio mi sembra anche buono anche se l'attenzione rimane alta e va valutato costantemente e quotidianamente il lavoro che andranno a svolgere.